Allora, vedo la ulti di Horizon qua. Potrei. No, sti c***o, ne ho 8 con 22 rimasti. Bella raga, oggi videozzo con Vrate, tra l'altro con un botto di kill, quindi subito un bel mi piace, anche perché Vrate è tipo la leggenda che più mi chiedete e meno vi porto, a parte Newcastle. Cioè, mi sono accorto ieri di avere un singolo video nel canale con Newcastle. Commentini spammini di oggi, commentate qui sotto se volete finire nel prossimo video, facendomi sapere la vostra subrate allo stato attuale. Sappiamo tutti che un tempo era la leggenda più broken del gioco, la più utilizzata, quella col picrate più alto, ed è stata così per tipo 8, 9, 10 stagioni. Secondo me adesso, dice ancora il suo, più che altro è veramente comodo da giocare. Se vieni da un'altra leggenda, ti sposti su di lei, ti senti più veloce. Non lo sei, ma ti senti più veloce. E niente sì, quindi secondo me è ancora valida, sicuramente non forte come un tempo, ma ancora valida, soprattutto divertente da giocare. E poi sono convinto che, visto il suo stato attuale, prima o poi un potenziamento arriverà. Raga, iscrivetevi al canale che sta per uscire la stagione 14. Ci saranno tante, tante novità su questo canale. E vi aspetto in live tutte le sere su Twitch. Link ovunque. Sabina gratuita col Prime. Mi supportate? Ottenete dei vantaggi? Bella. Comunque armati pericolosi, rega, dovrebbero metterlo più volte. È strabella, sì. Cioè, la modalità più bella. E se ci fosse però il Krabber più spesso qua, che è introvabile. Il Krabber pure sarebbe stradivertente, madonna. Ma poi il Krabber adesso l'hanno pure enervato, lo dovevano mettere come loot a terra, c***o. Cioè, il senti nel caricato fa uguale. Ma ho visto che Vantage, tipo, nel trailer di oggi, tipo, mezzo volava. Sì. Ma che è? Cioè, vola, quindi? Cioè, fa un'abilità di volo? Eh, sì. Se stava nel trailer, sì, certo. Eh, sì. Però uno è, penso sia corretto. Che tipo, quando miri o una roba del genere... Sì, sì, ma quello c'è nel trailer. Tipo, esatto, sì, esatto. Utilissimo, perché se miri un blowdown, effettivamente, cioè... Capito? Cioè, non... Ti conferma che è un blowdown, cioè... Eh, sì, eh. Eh. Ma infatti, quella roba lì... Vabbè, magari però se è distante... Ti danno... Boh, ma... Ma figa, ma... Ma figa, ma... Sì, sì, ma infatti. C'è l'altro che ti dice anche lo scudo, mi sa, no? In teoria, sì. Sì. Comunque ti dà... Il livello, però non la vita proprio. A bere i briniti ti fa sentire stra più veloce, figa. Ma perché bass? One shot in due. A terra uno. Crack. A terra in due. Track. No! Preso un altro. Ce n'è uno sul tetto, raga, che caga il cazzo. È qua sul tetto. Mi viene confermato... No, il tetto è già. Dietro il tetto. È colpito? 90, 90, te lo devi fare. Ok, mi devi restare. Io sono... Io sono questo 3 free. Sì, sì. È da lui, va da lui. Ok. C'era un full team. Ha tentato solo da questo lato, esatto. Lo so. Questo è quello più pericoloso. È che c'era quello che craftava, lo so, lo so. È rispawnato. Vai indietro, Bell, vai indietro. Ha recuperato il banner. Arriva. Figa. No! Arriva un altro team, arriva un altro team. Lo so, lo so, lo so, lo so. Ok. Ma cosa dobbiamo arriva sta gente? Non lo so. Non ti sta piussando? Sta sparando il team di lì? Vabbè, vai in botte. Stanno... Non ti push, eh? Almeno la Maggie. Non ho neanche le cure per fullarmi, però. Ma la Maggie l'ho noccata, non mi pusha. L'ho noccata. No, no, c'è una Maggie che è quella che sta sul ponte. Quella che era sul ponte. Che è dove sta il mio banner attualmente. Ok, ho preso la kill, godo. Ci sono tre team diversi. Sì, si faccia fare. Ho preso il banner del nostro compagno di squadra. Ush, faccio anche respawn là dietro. Comunque è vreddo, oramai... Basta. Basta in che senso? Ma come abilità... Cioè, l'hanno talmente depotenziata che... Ma secondo me prima o poi infatti la potenzieranno di nuovo. L'unica roba forte di Wraith che è il movement, appunto per le... Ma secondo me prima o poi la potenziano di nuovo. Infanto che sia piccolina. Esatto, cioè l'unica roba che fa... Già avere la tattica tipo un pelino più veloce. Cioè, deve essere bravo comunque tu con il movement, quindi. Sì, sì, cioè dovrebbero mettere la tattica un po' più veloce almeno. Non che si mette a fare... Carta sasso forci. Vabbè. Uh, due siringhe si goda. La roba bella di sta moda è che siano tutti armati per... Cioè, cecchino pompa, apri le... Le casse. E sei subito a posto, sì. Vabbè, a parte. Minchia l'hai detto. No, ma la cosa bella è tipo allo start, che anche se trovi solo radios sei sicuro, puoi comunque pushare perché non è che hanno tanto di meglio. Ma tu? Beh, vabbè, Gigi. Stanno là sopra, fermi da due ore. Hanno pushato, hanno pushato. Sì, sì, sì. Finalmente, cazzo. Ma sono tipo su sto detto. Eh, sì, ci hanno preso già. E li stanno facendo il fight alla Nico. Da 30 minuti qua a sparare da un tanto. Ce ne sono almeno due qua sotto. Che schifo. Vado avanti. 126 bianco, 126 bianco. Presa, godo, cazzo. Che pensi di fare qua? 70 viola, quello l'ho craccato. Qua sotto, Seba, qua sotto. Va bene, va bene, va bene, va bene così. Mamma mia. Mi son cagato addosso. Di giro. Allora, vedo la ultima di Horizon qua. Potrei. No, sti cazzo, ne ho 8 con 22 rimasti. Puoi, puoi. Dipende, se in questo fight non si noccano troppo. Eh, bello, prova... Sì, le potrei fare. Bello, fammi fare le 20, se riesci. Non ho noccato uno, sì, 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 sì. Dai, 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 scialla. Sto a 9. Chiamati i craccati. È fatti builissimo. Ma dici, me lo pusho? Sì, vai. Sono due team, eh? Eh, sono ancora due team, sì. Non so, ho craccato uno. No, no, non ho craccato uno. Da destra, da destra. Oh, però, figa! Anche da lì, anche da lì. Lo so, lo so, lo so, lo so. Sali su, sali su. Vabbè, tanto è pieno... Però in verità top 16. Però sono due team, dovresti fightarteli tu. Eh, lo so, appunto. Vabbè, posso andare da qua fuori. Andare da qua. Figa, sono già 13. Oddio. Eh, se non li faccio responare, no. Devastata questa. Sì, c'è gente pure a destra. Ma questa è morta diretta, però. Sì, c'è altro gente. E mi sta cadendo il control freak. Perché quanti siamo? Altri quattro team... Là? Eh, da responare, da responare. È un Horizon Viola, ha preso il banner di quello che avete killato. Vabbè, vabbè, è meglio, appunto, appunto. Andiamo, andiamo. Tagite qua che metto zip. Era un Horizon, eh? Sì, 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 ok. Sto a dieci. Sì, ma è malissimo, però. Sì, vai. Non faccio mai di chi ti arriva. Ha responato, buono. No, non è vero. Sì? Sì, sì, sì. Questo qua, boh, mi sembrava di aver sentito il respawn. Forse non l'ha fatto. Cioè, più che altro non si devono incontrare gli altri. Top 5. Non l'ha fatto ancora ci vuole. No, no, infatti. Dentro. Crafton. Tene blocco uno, se riesco. Wait a sec. Questo è full? 70 blue, 70 blue. Hai un HP. Non ci credo. 63 no. Teniamoli dagli altri. Crafton, no. No! Lascialo arrestare, lascialo arrestare. Sì, 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 lo so, lo so. Ma sono due sterre, no? Ma? Moza con Hammer, poi, non ci credo. Un altro team. Teniamo quelli dietro, noi. Eh, mi devo frullare così, però. Lo so, lo so, lo so. Il pat è quello da confermare. È blu uno, eh. Il pat è quello da confermare, è quello che ho fatto io. Ok. 70 blue all'altro. Ok, perfetto. Lei devo fare con cure piccole. Full, fullati, fullati. Eh, sì, sì, sì. 106 tipo al fiuso. Non voglio provare ad andare a questi. Andate, andate, andate. No, arriva un altro dietro, arriva un altro team dietro, forse. Ok. Preso uno. Sono dentro. Il fiuso è via. Sì, sì, sì. Arriva, arriva. È distrutto il mio castle. Brucio, 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 brucio. Sono due, però, sono due. Fiuso è devastato. A terra uno, il fiuso era one. Lasciate. Che pall. Dove sta il fiuso ora? Era una capire. Qua si sta, qua si sta. Preso. Adesso il tuo. Perfetto. Dico, vuoi la cosa con l'Umber? No, 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 no. Sto andando bene di pischipa. Top 3. Ha arrestato, me sa. Su due. E siamo sicuri che sia quel team là? È 30 blu, 30 blu. Che team è questo? È quello che ha arrestato? Sì, sono due, ok. Ti copro dall'altro? Ok, mi fullo, mi fullo. Faccio Phoenix. È one shot? Ok, ok, ok. E comunque ci sta l'altro team, sto a 14. Questi sono solo due. L'altro deve essere full team. Potremmo anche... O li lasciamo che posso respawnare che hanno il patto? Vai, andiamoci. Sperando che non incontrino gli altri. Ah, minchia, è vero. Eh, vabbè, tanto non te lo fai lo stesso. Ma loro? Dobbiamo arrestare? Venite, venite. Se è loro, risponde, aspettiamo. Cioè... Non fate cazzino, non fate cazzino. Sti cazzi, è la seconda? Appunto, appunto, è la seconda. Una sulla zip. Eh, no, c'è gente sulla zip. No, l'altro team. È l'altro team? Vabbè, bene, bene, bene. Sì, lo push. Lo push, sicuro? Eh, sì, sì. Possiamo ottenere l'altro team. Qual è quello che sale? 95, 95, quello lì? Eh, ma vicino da qua. Questo è vero? No, non penso sia un botto. No, no, un clone, un clone. No, hanno preso due knock l'altro team. Però se mi rubo anche solo una kill, se mi rubo anche solo una kill di questo fight, poi gli altri li faccio... Non si prende, non si prende. E' guantciato la magia, lasciate. Presa? No, ok. Faccio un portal? Conferma, andiamocene, andiamocene. Faccio un portal. No, no, bisogna andarcene, bisogna andarcene. E sto andando, infatti. Ok, seguo Bellio, non so che fare. Questo qua ne aveva fatti due, potrebbero anche respawnare di nuovo. Se li recupera. Ma appunto... Io ho fatto la Maggie che ha fatto la doppia. Ma non è che ve li trovate davanti, perdonate. Ma tranquillo. Eh, magari compagni di Maggie, magari. Infatti sto pensando di fare il giro da qua, che è più safe ancora. Però secondo me... No, non ci voglio credere. Vabbè, possiamo farcela. Se rimane un team da 3 va bene. Sì, 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 sì. Se è un team da 3 sì. Ma vuoi andarci o li aspettiamo? Vabbè, no. Se è un team... Eh, vabbè. Se è un team da 3 basta fargli una volta e fargli respawnare. Eh, ma allora è tutto in safe. Andiamocene in safe a sto punto. Perché se ci mettiamo a federe qua, è probabile che più scappa, non recupera niente. E avete un respawn portatile, per caso, per loro? Eh, vedi la... Sì, sì, sì. Vabbè, ma quelli che palli... Secondo me è uno solo e basta, non ha recuperato. Dici? No, dai. Ma va. Che infami totali. Bastardi. Che bastardi a pushare il respawn fuori safe. Tra l'altro il respawn che noi abbiamo lasciato. Figa, a sto punto... A sto punto, invece di far respawnare quelli là, li avessi pushati diretti. Erano due comunque, minchia. Erano Mad Maggie e l'altro. Erano due. Per una kill in più forse era meglio ucciderli diretti, cazzo. Almeno due? Sono Mad Maggie e Bangalore. Sono solo due? Sì, almeno... Solo due, solo due. Lasciamo l'entra in safe, così almeno hanno il tempo di prendere pure il banner. Sono esattamente qui. Ci hanno due respawn, cioè... Sì, esatto. Esatto, esatto. Sì, ma li dovrei fare... Servirebbero tre respawn in verità, servirebbero. Ah, figa, no. Allora niente. È... Proviamo lo stesso. Sì, magari... Il loro secondo ce l'ha... Eh, eh. Non puoi gli dottarli lì. Attenzione. Tanta di nuovo la Bangalore. Eh, 55 flash. Presa. Bello. L'altro è viola. Sì, sì, sì. Posso fermare e faccio il portale dietro. Eh, esatto, esatto. Prova. Sono sotto fuoco, nemico. Sto ricaricando gli scudi. Eh. Buono, buono. Vieni, se riesci. Va bene, tranquilli. Non è un problema. Non è un problema. Ok. Lascialo, Nico. Lascialo. Sti cazzo. Eh, minchia. No, mi sta andando via. Non ha recuperato? Sì, avrà recuperato. No, no. Sicuro? Sì, ma sì. Oddio, forse sì, perché era là dietro. Appunto, sì, sì, sì. Ha recuperato diretto, secondo me sì. Servirebbero due portatili, però. Ma, ma, mi viene, se non fai le 20 bombe, mi sono fatto... Non ne fa, non ne fa. Ma, no, è impossibile, tipo. Cioè, bastava... Matematicamente? Sì, ma, guarda che con questo respawn mi bastavano le fottute due kill. Mi bastavano le fottute due kill di Octane e Mad Maggie che abbiamo lasciato di là. Per farli respawnare. Ma, ma, allora, mannaggia. Puoi chitarlo comunque tu? No, prova a fare i no scope di Kraber a caso, vai. No, però dobbiamo vincere. Devo ricaricare i misti. Vai, shall. Vincere un vincere. Vai, Seba, è tutto tuo. Però, che noiosa, lei che va così, o che stava andando di no scope di Kraber. Fra, divertiti, cazzo, dai. Fra, divertiti. Che ora ti spammo, bastarda di mare. No, minchia, dai. Tra vi uno stava. Ma fai bene, fai bene, fai bene, non ha recuperato. Non ha rispunato, fai benissimo. Prenditela tu la kill, dai. Però, occhio, zainoro. Ah, zainoro? E con quanto si rispona. Non ti curare, Krabera, Krabera, Krabera. Krabera, zainoro. Mi sa che sono un coglione e non glielo ho fatto finire, GG. Lo sapevo, figa. Sì, 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 l'ho fatto a un attimo. Infatti hai detto, guarda che mo gli spara leggermente. Top timing, figa. Le cose in sta mod sono fisse, non c'era il respawn, non c'è. Il respawn si trova a terra ma non esiste, è introvabile, non c'è. E sì, lo sapevo. Vedi, l'ho uccisa prima. GG. Vabbè, tanto il badge delle 17 bombe non c'è, quindi. Grazie. Grazie a tutti.